si è discusso molto su juve inter sui campioni che l'hanno decisa in un senso o nell'altro da dibala a ericsson anche degli allenatori si è parlato della grande vittoria di sarri e della grande sconfitta di conte non bisogna sottovalutare il contributo che hanno dato due ragazzi coetanei che hanno anche lo stesso ruolo a questa gara c'è stato un protagonista d'elite che al quale diamo sette in pagella che certamente ha giocato una grande partita e ce n'è stato uno bastoni che non l'ha giocata altrettanto bene non è stata altrettanto positiva la partita del difensore nerazzurro il quale si è fatto anticipare due volte dal rivale in fase di attacco e anche nell'azione del primo gol è arrivato in ritardo la partita di bastoni è stata da 5 juve inter si è decisa per i colpi di dibala per i colpi mancati di ericsson ma anche per le giocate di questi due ragazzi due ragazzi del 99 che hanno avuto un rendimento decisamente differente